20.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000. Si è chiusa l'assemblea straordinaria della conferenza episcopale italiana che ha promosso la nascita del Servizio Nazionale per la tutela dei minori per contrastare la pedofilia, ma dall'assemblea è arrivato anche il Via Libera al nuovo messale romano, con la nuova traduzione del Padre Nostro. Questa, sentite, Nicola Ferran. Non più e non ci indurre in tentazione, ma diremo e non abbandonarci alla tentazione. Via Libera deve escovi a cambiare la traduzione del Padre Nostro, non una revisione solo sulla preghiera insegnata da Gesù, ma sull'intero libro liturgico, cioè dopo i testi sacri, cambia anche la formula del messale e dunque in concreto il modo in cui i fedeli pronunceranno la preghiera. Si vuole così evitare l'idea di un Dio tentatore. Ed è senza dubbio questa una delle principali novità della 72esima assemblea straordinaria della conferenza episcopale italiana conclusa oggi in Vaticano. Una novità che conclude un cammino lungo almeno 16 anni. 16 anni di confronto, di dialogo, di attenzione, di cura e anche di riflessione, e quindi di conseguenza anche di formazione rispetto a un messale che vuole essere corrispondente a quello che è un po' il cammino della riforma liturgica, anche accogliendo quello spirito che ci viene dal Concilio Vaticano II. Il testo, ben inteso, non entra in vigore subito. La nuova versione dovrà ottenere prima il via libera della Santa Sede e poi si potrà utilizzare quando, cioè avverrà, la pubblicazione della terza edizione del messale. Penso, spero che nel 2019, non so dirvi quando, ci possa essere l'uscita anche in stampa del nuovo messale. Altra novità riguarda la preghiera del gloria. Non più è pace in terra agli uomini di buona volontà, bensì è pace in terra agli uomini amati dal Signore. Più fedele al canto degli angeli dopo l'annuncio dato ai pastori. Spazio poi alla piaga degli abusi. I Vescovi annunciano la nascita di un centro nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili al servizio delle diocesi. In arrivo a febbraio nuove linee e guida da parte della Commissione per la tutela dei minori in una prospettiva nuova. Nel passato abbiamo pensato troppo allo scandalo, no? Si fa scandalo questa cosa, non la dire, è bene che tu non la dica. Direi che abbiamo fatto una scelta più evangelica, più radicale. Gli scandali non dovrebbero esserci. Ma se ci sono, è bene che si manifestino, purché trionfi la verità. In conferenza stampa, infine, il Cardinale Presidente precisa che sulla questione ICI non sono intercorsi al momento contatti col Governo, senza escludere la possibilità di avviarne però in futuro e aggiungendo che le cifre apparse sui giornali sono tutte da verificare. Ma perché questa modifica al Padre Nostro? Abbiamo chiesto di spiegarcelo proprio al Presidente della CEI, il Cardinale Bassetti. Chi ha risposto così? Se dovesse spiegare a un'anziama che ha recitato per tutta la vita il Padre Nostro con la vecchia formula che cambiare è opportuno e che quella nuova è bella, con quali parole glielo spiegherebbe? Ma glielo spiegherei intanto se questa persona, ora io vi devo raccontare un piccolo episodio sintetico. Un mio prete giovane, formato nel mio seminario, va a assistere in punto di morte un contadino comunista. Dice, volete fare una preghiera? Ah va bene, questo si rassegnava. Allora dice il pretino giovane che non sapeva il latino perché veniva da studi tecnici. Padre Nostro! E il vecchio comunista moriva dicendo Pater Nostro qui è sinceris. Poi nella liturgia un po' alla volta educheremo, diremo il perché, che cosa si coglie, diremo che la lingua italiana è una lingua viva e quindi come tutte le lingue vive cambiano anche il significato perché abbiamo fatto. Spiegheremo tutto. Però la vecchina può morire dicendo Pater Nostro, va in paradiso lo stesso. Una modifica che ha alle spalle una lunga storia. Già i padri della Chiesa nei primi secoli si interrogavano su questa formulazione. Come ci spiega Cristiana Caricato? Un passo avanti nel Concilio. Così il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha definito questa mattina la nuova formulazione nel messale romano del Padre Nostro, la preghiera più bella consegnata alla Chiesa da Gesù. Come è noto nella nuova traduzione della Bibbia approvata dalla CEI nel 2008, il non ci indurre in tentazione era diventato non abbandonarci alla tentazione, dopo un lavoro filologico e teologico portato avanti per oltre un ventennio da una commissione che aveva coinvolto 75 biblisti. La nuova versione italiana del latino, et ne nos in ducas in tentazione, si era resa necessaria per tradurre in maniera più fedele e meno problematica dal punto di vista teologico, il verbo indurre, che comportava l'assurdo di Dio Padre tentatore impegnato a creare difficoltà a mettere alla prova l'uomo. La nuova traduzione fa affiorare il significato più profondo e autentico dell'invocazione. Non abbandonarci affinché non cadiamo nella tentazione, ma anche non lasciarci soli se siamo già caduti in tentazione. La nuova traduzione era già stata inserita nel nuovo lezionario, ma mancava l'ultimo passo, l'uso della nuova formulazione nel messale liturgico, nella liturgia delle ore e quindi anche nella pietà comune. Con l'approvazione dell'Assemblea dei Vescovi i tempi si fanno più stretti. Si attende l'approbazio della Santa Sede, poi il passaggio in tipografia e quindi il nuovo messale, che sarà adottato nelle celebrazioni eucaristiche probabilmente già nel 2019. Si concluderà quindi un lungo processo, non sempre lineare, frutto anche di compromessi, come quello a cui lavorarono nel 2002 due dei più grandi biblisti italiani di sensibilità pastorali diverse, ma concordi sulla nuova traduzione, il cardinale di Milano, Carlo Maria Martini, e quello di Bologna, Giacomo Biffi. Il padre nostro, così come c'è stato trasmesso nella vulgata di San Girolamo del resto, aveva già incontrato resistenze in un altro grande padre della chiesa, Ambrogio, che preferiva tradurre il verso evangelico contestato con non permettere che cadiamo in tentazione. Veniamo alla bufera che sta attraversando la Gran Bretagna dopo le dimissioni di alcuni esponenti del governo in seguito all'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Unione Europea. Teresa May tira dritto e assicura, lasceremo l'Unione il 29 marzo. Le ultime 48 ore sono state probabilmente tra le più difficili del suo mandato, ma Teresa May si presenta impeccabile all'appuntamento con la stampa in abito blu. Chiarisce immediatamente già con le prime risposte, che intende andare avanti anche di fronte alla minaccia di essere sfiduciata dal suo stesso partito. L'accordo che ieri il governo britannico ha siglato sulla Brexit non è piaciuto a tutti e oggi quattro ministri hanno rassegnato le dimissioni. Si tratta degli euroscettici, duri e puri, che considerano la bozza troppo tenera e avrebbero preferito un'uscita dall'Europa senza compromessi. Credo con tutta me stessa che questa sia la strada giusta per il nostro paese, ha affermato la premier britannica. Il mio unico obiettivo, ha aggiunto poi, è quello di onorare il voto espresso nel referendum del 2016. Il referendum, appunto, che ha già dato espressione della volontà degli inglesi e che Teresa May non intende mettere in discussione, non si tornerà alle urne dunque per una seconda votazione sulla Brexit. I prossimi passi saranno decisivi. L'accordo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dovrà essere ratificato prima dal Parlamento Britannico e poi, il 25 novembre, dall'Europa. Se tutto andrà liscio, il 29 marzo del 2019, il Regno Unito sarà fuori dall'Unione Europea. Veniamo alla politica di casa nostra. Tre mesi dalla tragedia di Ponte Morandi e legge il decreto Genova, ma il clima all'interno del governo non è così disteso. Nuova polemica tra Salvini e Di Maio questa volta sui rifiuti in Campania e la realizzazione degli inceneritori. A tre mesi dal crollo del Ponte Morandi e legge il decreto su Genova e altre emergenze, compreso il contestato condono per Ischia, ma in aula al Senato, dopo il voto, scoppia la bagarre tra pugni alzati e proteste delle opposizioni. Il ministro Toninelli che ha alzato il pugno, ha alzato il pugno durante la votazione. Clima surriscaldato che costringe la Presidente del Senato Casellati a sospendere la seduta, conclusa poi con un minuto di silenzio per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Al vuoto non hanno partecipato dieci pentastellati, allargando così il campo dei dissidenti e con il rischio espulsione nei confronti del senatore De Falco. Tra poco nuovo vertice a Palazzo Chigi, ma per mettere a punto un altro decreto, quello fiscale, sulla manovra invece giungono delle novità come la tassa sulle bevande zuccherate come la Coca-Cola e l'aranciata. Mentre è previsto un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè in scadenza a fine anno, prevedendo anche una maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo. Ma si apre l'ennesimo confronto a distanza tra i due vicepremier, questa volta la disputa è sull'utilizzo degli inceneritori in Campania. Alla proposta di Salvini di metterne uno per ogni provincia, ribatte Di Maio, per il quale invece gli inceneritori non servono a niente. Chiamiamo argomento, in piazza San Pietro sta per nascere il monumentale presepe di Natale. sarà composto da 700 tonnellate di sabbia proveniente da Iesolo. Oggi tutta questa sabbia è arrivata a Roma e tra qualche giorno quattro artisti internazionali la lavoreranno e la trasformeranno nella scena della natività. Caterina Dallori. 566 chilometri, tanto lungo il tratto che questi camion pieni di sabbia hanno dovuto percorrere dal lido di Iesolo per arrivare a Roma, in piazza San Pietro, nel cantiere al centro della piazza che a fine lavori ospiterà il presepe monumentale, l'albero di Natale. Il presepe di San Pietro di quest'anno sarà infatti fatto di sabbia, di un tipo particolarmente pregiato, quello dello mitico, derivante dal processo di erosione di questa parte di Alpi, dono del comune di Iesolo e del patriarcato di Venezia. Da 16 anni artisti, scultori da tutto il mondo, si cimentano nella realizzazione di natività monumentali scolpite su sabbia, in una competizione organizzata dal comune di Iesolo e della regione Veneto. Figure plasmate, rifinite in ogni particolare, ricavate da granelli compressi. Per la piramide e la struttura portante del presepe di piazza San Pietro sono serviti 1300 metri cubi di materiale, 700 tonnellate. Costituito con arte, ma anche con un materiale particolarissimo, credo che, come si dice, bucherà lo schermo proprio per la sua particolarità. Il presepe è un segno cristiano semplice, però è importante soprattutto se vengono valorizzate anche delle tecniche artistiche. Il basso rilievo sarà lungo 16 metri per 5 d'altezza e 6 di profondità, l'estensione totale è di 25 metri quadrati. Gli artisti che si cimenteranno nell'opera provengono da Stati Uniti, Russia, Olanda e Repubblica Ceca. Gli ultimi ritocchi verranno messi a punto il 6 dicembre, prima del disvelamento finale, insieme all'albero di Natale, il 7 dicembre. Oggi dall'Assemblea della CEI è arrivata anche la decisione della Chiesa italiana di proclamare San Leopoldo Mandic protettore dei malati di cancro. Leonardo Possati. D'innanzi alle vostre prove vi prometto la consolazione di Dio. E questa è l'assicurazione fatta da San Leopoldo Mandic a quanti nel confessionale gli raccontavano i propri tormenti spirituali e fisici. Ed erano molti coloro che ogni giorno accorrevano per riconciliarsi con Dio e trovare conforto dalle proprie pene. Padre Leopoldo ha trascorso una vita nel confessionale attirando a sé migliaia di persone attraverso la sua santità, la forte cultura e il sottile intuito. Una esistenza dunque spesa nell'ascolto delle confessioni e nella direzione spirituale, anche quando le condizioni di salute avrebbero sconsigliato un tale impegno. Per anni, infatti, San Leopoldo Mandic è stato malato di tumore all'esofago, tra enormi sofferenze e difficoltà, ha portato sempre avanti il suo ministero ascoltando le confessioni per intere giornate e passando le notti in preghiera. Un esempio e un riferimento per migliaia di persone. Da questo nasce la decisione della CEI di proclamarlo patrono dei malati oncologici. Affinché sul suo esempio, e ricorrendo a lui nella preghiera, gli ammalati possano affrontare con serenità, spirito di fiducia e abbandono alla bontà divina la prova della malattia e invocare il dono della guarigione. Fin dagli anni Ottanta, quando Giovanni Paolo II lo proclama santo, molti medici e persone ammalate di tumore hanno raccontato di aver fatto ricorso a lui e ottenuto grazie per sua intercessione. Alla proclamazione definitiva di Leopoldo Mandic, santo protettore dei malati di tumore, dopo il placer della CEI, manca solo un ultimo passo, ovvero il sigillo ufficiale della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Ci fermiamo qui, ma è in arrivo Donatello Vaccarelli con TGTG. State con noi, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.